Il terremoto Rica scuote la Locride e nel contempo invita a compiere una riflessione profonda. Oltre 100 giovani coinvolti in questo progetto, che già dalle prime fasi si pronunciava come un evento. Mezzo migliaio di persone si sono commosse, innamorandosi a prima vista del nuovo lavoro artistico di Bruno Panuzzo. La Locride aveva bisogno di un elemento di riscatto a cui aggrapparsi ed è giusto dire che tra le tante iniziative, ancora una volta le idee di Bruno Panuzzo hanno compiuto il miracolo. Nel progetto Rica viene infatti coinvolto Luigi Luppola, uno dei massimi esperti della musica del quartetto di Liverpool e presidente di uno storico club capitolino loro dedicato. Luigi Luppola appare straordinariamente meravigliato dalla caratura dell'opera filmica dichiarando «Grazie Bruno per la bellissima giornata a Locri e per la tua ospitalità». Mi congratulo inoltre, con tutto il cast della pellicola, soprattutto con i ragazzi della Locride, che insegnano a non arrendersi alle violenze e ai soprusi che ancora segnano il loro splendido territorio. I ragazzi di Rica, nonché i ragazzi della Locride, avvertono la necessità di cambiare come un bisogno, esternando attraverso codesti metodi di comunicazione multimediale i loro desideri, i loro sogni, la loro rabbia e le loro speranze. Abbiamo visto due sale cinematografiche gremite, abbiamo letto Speranza nei volti della gente, abbiamo raccolto entusiasmo giovanile e voglia di riscatto, abbiamo visto una Locride diversa, quella vera e autentica, quella sana e che grazie ai progetti come Rica emerge e brilla nel proprio massimo splendore. Il film partirà presto per l'Inghilterra, dove sarà presentato nella splendida Liverpool dei Beatles. Quando Bruno Panunzo mi ha contattato per partecipare e supportare questa manifestazione, io ho accettato con grande entusiasmo, in quanto è proprio, sono quel tipo di manifestazioni a cui il Beatles fan club partecipa con orgoglio. È il film che si basa proprio sul contenuto artistico e culturale che ci hanno lasciato i Beatles. I messaggi, specialmente Giorleno, un messaggio di pace, Giorleno è un pacifista, il messaggio che ci ha lasciato a Paul McCartney, Paul McCartney è un amante della natura e della preservazione degli animali. George Harrison, un messaggio di spiritualità che ha abbracciato la filosofia indiana e quindi ci ha invitato tutti alla meditazione. Poi ecco, questo film, una forma di riscatto dei ragazzi del sud, dei ragazzi di Locri, in particolare di questa provincia e quindi noi abbiamo aiutato la manifestazione allestendo questa mostra In the Fong and the Rain. Questo è tutto un patrimonio formato da libri e dei ritagli, il giornale che ci ha donato un ragazzo la cui mamma era un Apple Scrafts, erano quelle fan che stazionavano stabilmente fuori della sede della Apple a Londra e della EMI, la casa escografica dei Beatles. E queste appunto sotto la pioggia, sotto la nebbia, indifferentemente, stavano lì cercando di prendere contatto con uno dei Beatles. E una di queste forme di contatto era proprio lo scatto di queste fotografie, formato polaroid, quindi fotografie uniche nel loro genere che con noi, con grande sorpresa, abbiamo scoperto in tutto questo materiale che ci ha donato questo ragazzo. Quindi noi abbiamo cercato di valorizzare queste fotografie all'estendo appunto questa mostra in memoria proprio di questa ragazza all'epoca, Isabelle Bertè, che ora purtroppo non c'è più. E tant'averemo abbiamo fatto anche un catalogo descrivendo proprio la biografia di Isabelle Bertè e il significato di queste fotografie. Io apprezzo molto di più un evento di questo tipo, dove effettivamente c'è un contenuto culturale preciso, c'è un contenuto di appunto di coinvolgere il più possibile i ragazzi e fargli conoscere effettivamente qual è il contenuto artistico dei Beatles, come abbiamo detto prima. Con i cover band insomma basta. Noi a Roma abbiamo fatto un festival basato sulla interpretazione della musica dei Beatles, non la semplice riproduzione, che la semplice riproduzione basta sentire il disco, passare il CD e fatto insomma. Ma invece rienterpretare, dare un qualcosa di personale alla musica dei Beatles è tutto un altro discorso. Grazie.